Luciano Fiorella è il nuovo direttore sanitario dell'ASP di Caltanissetta, ruolo ricoperto fino a poco tempo fa da Marcella Santino. Direttore di presidio dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato nominato dal direttore generale Caltagirone, che in una delibera dichiara che l'incarico dato a Fiorella è fondato sul rapporto di fiducia e che con quest'ultima figura è strettamente correlato specie per funzioni, responsabilità e obiettivi da raggiungere. Luciano Fiorella sarà direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta sino alla cessazione dell'incarico dell'attuale commissario straordinario.